Nella chiesa di San Giorgio, Pierluigi Mottinelli, ex presidente della provincia, ha presentato il libro La nuova Europa, casa delle nazioni, curato dall'associazione Comunicare Europa, di cui è presidente. Un diario degli interventi e delle attività di Mottinelli nei 5.000 giorni trascorsi alla guida dell'ente. Pierluigi Mottinelli è in corsa verso le elezioni europee del prossimo anno, un obiettivo per cui ha rinunciato anche alla segreteria provinciale del partito. Credo che sia una testimonianza di un impegno amministrativo e politico di questi ultimi 14 anni, 10 da consigliere provinciale e 4 da presidente dell'amministrazione provinciale, tenendo conto che cimentarsi in questo ruolo è stato molto faticoso, ma il bilancio che ne trago è di grande orgoglio e di avere portato comunque un'istituzione in un momento di grande trasformazione, anche della messa in discussione della stessa istituzione, mezzo ai cittadini, l'idea è quella della Casa dei Comuni. E credo che sia un percorso che è molto simile a quello che noi vorremmo per l'Europa, un'Europa che sia sintesi delle singole identità nazionali, e per cui ci è sembrato felice dire che noi vorremmo portare l'idea della Casa dei Comuni, che è la provincia di Brescia, verso la Casa delle Nazioni, che è l'Europa che vogliamo. Il momento in cui si tende a negare e a denigrare l'Europa, questo sia un segnale in controtendenza, ma che noi vogliamo dare convinti che la prossima sfida del rinnovo del Parlamento europeo sia come mai una sfida tra culture, tra momenti di discussione che possono davvero essere dirimenti rispetto alle prossime generazioni e al futuro che avremo di fronte. Lei è fiducioso sul futuro di questa Europa, Pierluigi Mottinelli? Io sono fiducioso, sono convinto che molto si debba fare, molto si debba cambiare, ma è un miglioramento rispetto a quello che conosciamo e non è sicuramente un momento di regressione, ma invece un momento di fiducia per un cambiamento che può essere un miglioramento. Non credo però che si possa stare fermi e per non stare fermi occorre essere decisi in un passo, che è quello verso gli Stati Uniti d'Europa, quello che è una comunità che va rafforzata che è sintesi della diversità, ma che ha comunque un comune denominatore che deve unire e migliorare quello che è il benessere delle comunità nazionali. L'associazione nasce per volontà di portare i temi dell'Europa nei nostri territori, a Brescia, in Regione Lombardia, nell'Arco Alpino, facendo sintesi anche di esperienze che soprattutto tendono a valorizzare il patrimonio amministrativo, soprattutto di chi è stato in questi anni impegnato nei territori più periferici e distanti, parlo dei territori della montagna e delle aree interne. Grazie. Grazie.